Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare, ricorda di lasciare un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Uomini e donne, Raffaella Squotto risponde agli hater dopo le foto social in slip, cervelli arretrati. Raffaella Squotto e Brando e Firichian vivono il loro amore lontano da uomini e donne, mostrandosi inseparabili sui social. Recentemente, Raffaella ha condiviso foto di coppia, inclusa una in slip, scatenando il dibattito online. Molti hanno elogiato la coppia, ma altri hanno criticato la foto in slip, mettendo in dubbio la loro sincerità. Gli hater hanno attaccato Raffaella, accusandola di esibizionismo e mettendo in discussione i sentimenti di Brando. Raffaella ha risposto agli hater con una story su Instagram, sottolineando l'ipocrisia delle critiche. Con ironia, ha evidenziato come la stessa gente che la critica ignorerebbe foto in bikini, definendo arretrati i loro pensieri. Raffaella ha chiuso la discussione, dimostrando di non farsi intimorire dalle parole negative e difendendo la sua libertà. E tu stai dalla parte di Raffaella? Scrivici in un commento la tua opinione.